benvenuti nella cucina di gilda tenetevi forte che oggi vi stiamo a fare una ricettina di quelle no dalle cavi baffi di più raga gilda re dice tutto vai ciao amori miei allora oggi vi preparo una bella lasagnetta con la zucca come la faccio io buona raga allora eccola qua allora io questa qui l'ho cotta l'ho messa dentro un tegame ci ho messo mezza cipolla poi ci ho messo un pochettino di sale l'ho ricoperta soltanto con l'acqua e l'ho acceso il gas e l'ho fatta coce ma roba dei 10 minuti come ha preso il bollore proprio 10 minuti e poi l'ho scolata eccola qua e mi sono tenuta un pochettino d'acqua perché adesso io la devo frullare se no dopo magari in me si frulla bene e per la mia comodità ecco allora io adesso la metto qui dentro ecco fatto senti poco come profuma o ecco qua allora adesso lo diamo tutto ecco fatto allora adesso la frullamo ci mettiamo un goccettino d'acqua ma proprio poca tanto che fa la gira bene e andiamo allora adesso la metto qui e la rimetto nel piatto ecco fatto ok guardate che bella cremina che è venuta ecco fatto voilà allora adesso ci mettiamo la besciamella eccola qua allora questa è 250 grammi di besciamella allora questa non l'ho fatta io l'ho comprata va bene va bene cara eccola qua voilà oggi non c'ho proprio tempo di farla ce l'ho cinque minuti a farla eh però per me quei cinque minuti lo sapete che è un'ora non è che ti sta da spiegazione chi vuole se la fa da sé chi vuole fa come noi sa compra però mi piace pure dirlo c'ha tempo così allora c'è niente di male vediamo sta roba che mi dà fastidio allora questo è pronto eh allora tanto io gli sto facendo vedere cosa ci abbiamo qua adesso mettiamo ecco fatto allora questo è proprio semplice semplice ma quant'è buona allora raga io vado sempre un po' a occhio eh allora la zucca era eh quant'era la zucca? 330 grammi vabbè considerate 350 grammi va bene? ecco fatto poi uno ci mette quello che vuole eh allora adesso io metto un po' di parmigiano qua sotto eccolo qua guardate allora poi ci metto pure un po' di pepe ma lo metto qua dentro va che è meglio senza far strato per strato ecco voilà un po' di pepe ci sta bene eh altro che poi chi vuole ci mette certo allora eccolo qua allora siccome questa è ovale mi tocca dargli una sistematina a sta pasta vedete ecco così fa niente che vi è dubbia eh così è voilà allora queste sono due belle sarcicce che io l'ho io ho levato la pelle adesso l'ho tutte tagliuzzate e le vado a mettere qua sopra vedete ecco così crude adesso rimetto un po' di besciamella e zucca eccolo qua vedete voilà ecco fatto guarda un po' raga mamma mia adesso ci mettiamo un po' di mozzarella eccola qua bene questa è mozzarella e allora questa qui è 150 grammi di mozzarella filante ah quella pasta filata ok sì e mettiamo un altro po' di parmigiano eccolo qua allora queste sono le sfoglie secche allora io ho fatto bollire l'acqua ce l'ho buttata dentro dal bollore ce l'ho tenuta proprio due minuti ma proprio due minuti a scappa via perché almeno così devono essere al denti capito ecco fatto tappiamo sti buchetti ecco vedete come sono venute belle morbide allora io con questa mi trovo proprio tanto bene sapete allora adesso rimettiamo un po' di zucca e besciamella ah salciccia metti dopo qua sì ok sì ecco io faccio sempre un po' singheseong lo sai però è uguale tanto il condimento poi è quello voglio dire voglio dire voglio dire voglio dire che montare mamma mia ecco adesso ho messo l'altro parmigiano e adesso mettiamo la pasta allora ecco fatto allora il parmigiano ce ne ho messo 150 grammi allora invece le sfoglie erano erano 8 e sono venuti 4 stradi va bene eccola qua finita io adesso ah la teglia prima che mi scordo 26 questa è ovale però ora aspettate va allora 26 per 17 mi sembra sì va bene allora questa è ovale allora adesso io la vado a cuocere a forno caldo a 180 appena mezz'oretta va bene eccola qua va bene vai eccola qua è bella che pronta guardate mamma mia ragazzi guardate che bella che goduria questa deve essere così perché se no la zucca che bontà che bontà e adesso noi ci hanno mamma amori miei va bene guardate un po' raga guardate che bella a me piace sta crosticina qua sopra mamma mia adesso un assaggio una forchetta come è Girdarè mamma mia ci stai a far sognare qua Girdarè non è possibile potete capire quanto è buona amori non è che ce li vi tenta tutti i giorni così Girdarè fatela perché è buona è speciale va bene amori allora adesso che meraviglia raga guardate qua cioè guardate che crema uno spettacolo brava Gildarella brava Gildarella è buonissima 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 allora amori miei adesso io vi mando tanti baci belli sempre dal cuore e dalla cucina di Gilda siamo tutti lo sapete e mi raccomando fatela perché è proprio buona così e piatto ricco mecefico mecefico grazie a tutti